signore e signore vengano vengano ad assistere alla grande battaglia nell'arena della musica 10 lottatori e un solo vincitore affilate le note la top 10 sta per iniziare su cinefm 100.7 ne rimarrà uno solo al mio segnale scatenate l'inferno andiamo subito con la top 10 posizione numero 10 per Samuel la statua della mia libertà numero 9 per Francesco Renga nuova luce posizione numero 8 per Paola Turci la vita che ho deciso posizione numero 7 per Mario Venuti il singolo caduto dalle stelle numero 6 per Luciano Ligabue ho fatto in tempo ad avere un futuro numero 5 per Pasco Rossi con Come nelle favole il brano dei Tiro Mancino dove tutto è a metà lo troviamo alla posizione numero 4 saliamo sul podio e troviamo Francesco Gabbani il brano tra le granite e le granate numero 2 per Giorgia il singolo Credo arriviamo alla prima posizione lui Tiziano Ferro con il brano Lento Veloce è lui il numero 1 di ora mi fermo qui amo amore mio non pensare a niente a te ci penso io grazie grazie